Siamo di fronte a Kubaba, la regina di Kish, che ovviamente era anche un osse, è un po' come se Mattarella Senti bello, io non so chi è Mattarella ma non posso stare qui a pittare le unghie al papere Capiamo oggi che in fondo a Dio gli piace mangiare e gli piace bere a nostra immagine e somigliare F.A.U.M.U. Ma l'altro? Fino è finito, fino è finito, vino è finito E infatti Gesù sanno l'importanza del vino, infatti quando una donna gli ha chiesto questo mica meno diverse, i g workforce da 110 e 0.40 450 litri L'ingresso in bocca. E' maestoso I tannini iniziano a fare un carnevale di rio e quell'energia che scatena fino in fondo alle ghiandole ovariche che sono così pronte alla riproduzione. Yes, you've got to, yes, you've got to, yes, you've got to have fun.